carissimi amici amiche siamo a un nuovo episodio del ciclo di catechesi dedicato a san giuseppe il più santo dei santi oggi è il primo mercoledì del mese giorno particolarmente importante per i devoti di san giuseppe i devoti di san giuseppe dovrebbero essere semplicemente tutti i figli della chiesa nessuno escluso perché san giuseppe non è un santo come tutti gli altri sappiamo c'è la madonna che sta su un altro pianeta ma subito dopo la madonna c'è san giuseppe san giuseppe san michele arcangelo sono evidentemente elementi costitutivi fondamentali stanno su un altro livello questa sera cominciamo un tema del testo del del padre pegna il più santo dei santi molto molto interessante voi sapete che le devozioni la devozione per esempio ai primi mercoledì del mese è stata rivelata da san giuseppe durante l'apparizione di itapiranga in brasilia molto molto note al leggente etson glauber da poco disgraziatamente scomparso sono delle rivelazioni molto belle e dove praticamente su san giuseppe si spiega che la devozione al sacra al cassissimo guardo di san giuseppe e quindi poi la pratica anche dei primi mercoledì del mese che è analogo a quella dei primi mercoledì dei primi sabati completa diciamo così il culto alla trinità terrena perché la famiglia di nazareth gesù giuseppe e maria costituisce questo è un tema classico anche nella letteratura spirituale la trinità terrena e un culto diciamo così espresso al cuore di san giuseppe mancava ancora no il cassissimo cuore di san giuseppe molto molto è stato da lui mostrato molto molto bello è un cuore ardente d'amore circondato da 12 gigli e che ci ha marchiato a fuoco al centro del del cuore stupendo il retro della medaglia miracolosa la parte centrale cioè la m sormontata dalla croce dalla i cioè gesù maria e la croce sicuramente il cuore di san giuseppe anche se non fossero veri per le apparizioni di tapiranga per chi non ci crede sicuramente è così il cuore di san giuseppe quindi il tapiranga o non il tapiranga il cuore di san giuseppe certamente è così e lì sempre tapiranga san giuseppe ha dato conferma alla tematica che affronteremo questa sera cioè dentro l'ambito dei cosiddetti privilegi di san giuseppe ci sono tutta quanta una serie di di pie convinzioni e che però a volte sono un po più che pie convinzioni una di queste come vedremo è l'assunzione al cielo di san giuseppe vedremo i suoi fondamenti ai tapiranga san giuseppe ha confermato anche questo dato è inutile scandalizzarsi vedremo che ci sono nella sagra scrittura diversi fondamenti per questo per per questo per questo discorso e non solo relativamente a san giuseppe siamo sempre molto molto cauti ad affrontare i problemi con i paraocchi la madonna è stata assunta quindi è stata assunta la madonna e quindi basta la madonna non è semplicemente stata assunta in cielo non è non c'è perché ciò che è caratteristico dell'assunzione di di maria santissima anche se nel dogma e di più dodicesimo volutamente non è stata affrontata questa questione ma non è tanto l'assunzione non è neanche principalmente l'assunzione ma è il fatto che la madonna il suo corpo non è morto mai morto proprio in senso stretto cioè quel cuore immacolato non è mai cessato di battere a causa dell'esenzione dal peccato ha avuto il sonno estatico al termine della della vita ma un'estasi non è la morte come noi la conosciamo cioè l'anima di maria non si è mai completamente separata dal corpo per cui quel cuore non ha mai cessato di battere e evidentemente poi la gloria dell'assunta supera quella di tutti i santi mesi insieme no ecco però vedremo che questo non significa che solo la madonna sia stata assurda lo vedremo subito comincio a leggere il testo così non stiamo troppo sulle spine alcuni teologi e santi credono che san giovanni battista e geremia furono santificati nel ventre delle loro madri geremia prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo prima che tu si uscissi alla luce ti avevo consacrato geremia capitolo 1 no san giovanni battista il bambino mi ha sussultato nel grembo interpretazione della stragrande maggioranza degli interpreti Gesù Cristo ha liberato attraverso certamente la visita della madonna quindi attraverso la mediazione di questo episodio il battista dal peccato originale fin dal grembo materno quindi in teologia c'è questa convinzione san giovanni battista e geremia furono santificati nel ventre delle loro madri e san giuseppe a maggior ragione la stessa cosa si debba dire di san giuseppe lo affermano tra gli altri già citati gersone e isidoro di solano ma anche bernardino di bustos santa alfonso maria degli cuori e la venerabile maria di gesù da greta la quale dice che san giuseppe fu santificato nel ventre di sua madre a sette mesi dal concepimento sette mesi dal concepimento e la stessa continua alcuni privilegi ho inteso che per la sua grande santità gli concesse l'altissimo per tutti coloro che l'avrebbero invocato come intercessore alcuni privilegi il primo è per raggiungere la castità la virtù della castità e vincere i pericoli della sensualità carnale cioè qualcuno vuole uscire dal vizio della della lussuria diventare casto certamente la prima da invocare è sempre la madonna che è la regina delle vergine ma siccome san giuseppe era un maschietto e sapevamo che notoriamente i maschietti hanno più difficoltà delle femminucce nel raggiungimento della castità e era un maschietto santissimo ma non esente dal peccato originale quindi cosa poi il signore gli abbia fatto se l'abbia in qualche modo presantificato o esentato dall'avvertire i fomiti non lo sappiamo forse sì forse no non lo sappiamo in ogni caso è veramente uno di noi sotto tutti i punti di vista proprio tutti quindi anche la madonna e anche Gesù sono uno di noi certamente però insomma Gesù è uno di noi un'umanità perfetta unita alla persona del verbo questo non vuol dire che non sia un'umanità perfetta quindi non sia veramente uno di noi però la madonna non è unita a nessuna persona divina non è una dea è un essere umano però non è una tra le tante anche se oggi la vogliono tutti i canti abbassare la nostra sorella che te sorella non è una tra le tante non è una persona normale nel senso che così una trattante no cioè no è un essere umano certamente ma non era una trattante cioè io non voglio fare nomi ma certe certe scempiaggini dette sulla sulla madonna allo scopo di farla apparire come una quasi come un adolescente normale quasi come una ragazzina normale insomma voglio concedere la buona fede di chi le ha pronunciate ma io penso che da un punto di vista oggettivo quando chi le ha pronunciate si è presentato dall'altra parte si è beccato una bella lavata di capo da parte del nostro signore ma come ti permetti di andare a dire ste sciocchezze insomma no ecco o per raggiungere la castità il secondo per ottenere potenti aiuti per uscire dal peccato e tornare all'amicizia con Dio secondo grande privilegio terzo per raggiungere per mezzo di lui la grazia e la devozione di Maria Santissima dice io ho poca devozione alla madonna e beh chiedi a San Giuseppe che lui era devoto alla madonna che ti aiuti perché la devozione alla madonna è fondamentale per diventare santi e anzi grandi santi come insegnava San Luigi Monforto no il quarto questo è un pochino più conosciuto per conseguire la buona morte e in quel loro la difesa contro il demone sapete che San Giuseppe è il padrono della buona morte questo è notorio perché perché è morto tra le braccia di Gesù e di Maria beato a lui e quindi più protetto di lui non si può essere insomma in quell'ora così decisiva no il quinto è perché i demoni stessi tremano e fuggono all'udire il nome di San Giuseppe terror demonum è una delle litanie di San Giuseppe terrore dei demoni quindi anche contro le tentazioni e gli assalti del nemico invocare San Giuseppe è uno grande mezzo per debellare le tentazioni il quinto è per ottenere la salute corporale no scusate il quinto erano i demoni il sesto è per ottenere la salute corporale e la soluzione di altri problemi salute corporale quindi chissà che se qualcuno l'ha invocato durante questi tempi di di terrore di perdere la salute da parte di qualcuno no o se ci crede ma se invoco San Giuseppe sarò protetto ma il settimo per avere eredi successione di figli nelle famiglie avere figli questi li racconta Maria da Greta questi e molti altri favori concede Dio a coloro che nei modi dovuti e come si conviene lo pregano per l'intercessione di San Giuseppe è Dio che da tutti i fedeli figli della Santa Chiesa è sempre Maria da Greta che parla che siano molto devoti a Lui e toccheranno con mano queste grazie se si disporranno convenientemente a riceverle e a meritarle ora la santificazione di San Giuseppe vedete qui Maria da Greta dice a sette mesi dal concepimento io per carità rispetto la sua grandissima autorità come tutte quante le rivelazioni private non necessariamente sempre tutto deve essere dato come oro colato ci sono molte cose anche nelle rivelazioni private autentiche che possono in qualche modo essere problematiche dipendenti da tantissime cose adesso non è questa la sede opportuna per spiegarlo io personalmente non mi stupirei affatto considerando la statura veramente straordinaria della santità di San Giuseppe l'ho già detto se non soltanto che lui sia stato liberato dal peccato originale prima di venire alla luce per quanto mi riguarda non può che essere sicuro perché se San Giovanni Battista è sicuro cioè l'interpretazione di quella frase biblica detta al profeta Geremia può essere discutibile no? prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato ti ho stabilito come alleanza delle nazioni può darsi anche che si possa intendere semplicemente che Dio gli aveva già dato la sua missione no? quindi non nel senso però la visita a Santa Elisabetta non soltanto proprio l'episodio no? perché San Giovanni Battista c'è avuto un sussulto nel grembo di Santa Elisabetta ma anche l'interpretazione molto 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 diffusa di questo episodio in questo senso lo rendo non dico insomma certo ma quantomeno altamente probabile e San Giovanni Battista è il più grande tra i nati di donna attenzione ma il più grande tra i nati di donna nell'Antico Testamento quando qualcuno dice ma San Giovanni Battista è più grande di San Giuseppe no perché Gesù dice in verità tra i nati di donna non è sorto uno più grande di San Giovanni Battista attenzione però eppure il più piccolo nel Regno dei Cieli è più grande di lui e San Giuseppe non si può annoverare cioè in San Giovanni Battista come dire San Giovanni Battista è l'ultimo testimone dell'Antico Testamento perché ha il compito di presentare Gesù e al tempo stesso è il più grande di tutti in lui tutto il fiorfiore tutto il meglio dell'Antico Testamento si concentra in un certo senso no? però il più piccolo nel Regno dei Cieli cioè il più piccolo tra i nati di Cieli di Gesù è più grande di lui perché ha qualche cosa che prima che venisse Gesù non c'era no? quindi la redenzione perfetta la vinenza della grazia eccetera eccetera no? allora San Giuseppe ripeto io non mi stupirei se come ho detto altre volte le posizioni le cose che venivano attribuite alla Madonna da chi non credeva al peccato originale cioè è stata concepita col peccato originale ed è stata immediatamente liberata dal peccato originale questo dicevano i non immacolatisti non mi stupirei se una cosa di questo genere fosse accaduta a San Giuseppe non soltanto liberato nel grembo materno ma subito perché c'è sempre un principio che questo è un principio fondamentale che dobbiamo imparare che meno si sta tra le grinfie del diavolo per il peccato originale o per il peccato attuale e meglio è e oggi questo non è che è tanto tanto chiaro tante volte insomma ho lamentato da povero parroco i differimenti dei battesimi hanno già fatti due o tre di ragazzini di tre, quattro o cinque anni addirittura allora quindi questo per quanto riguarda il peccato originale e per quanto riguarda la fine della vita terrena attenzione uno dei privilegi speciali concessi da Dio a San Giuseppe secondo alcuni santi è quello della sua assunzione al cielo in anima e corpo attenzione che questi lo affermano santi del calibro allora numero uno il famoso teologo spagnolo Francisco Suarez Francisco Suarez per chi conosce la storia della teologia è un grandissimo gesuita nel XVI e XVII secolo ma era proprio un'autorità indiscussa d'accordo è un grande commentatore di 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 San Tommaso d'Aquino quindi un'autorevolezza unica nel pensiero cattolico San Pier Damiani che è dottore della chiesa San Bernardino da Siena San Francesco di Sal che è dottore della chiesa Sant'Alfonso Maria del Liguori che è dottore della chiesa la venerabile Maria di Gesù da Greta l'abbiamo già visto anche questo sostiene il Bossuet grande teologo Sant'Enric de Osso i servei e altri ancora per quale motivo questa posizione teologica perché Cristo è soprattutto redentore dei genitori suoi che amò di un amore totale che santificò con una tale pienezza da renderli modello degli altri redenti inoltre perché Giuseppe ebbe una missione universale specialissima e perché sembra ragionevole che la Sacra Famiglia predestinata ad iniziare una vita divina del lignaggio umano in anticipo su tutti gli uomini abbia iniziato anche la vita gloriosa della risurrezione prima di essi Gersone è un altro personaggio di calibro fuori del comune grande devoto di San Giuseppe parlò della risurrezione dell'assunzione del nostro santo in cielo con anima e corpo nell'omelia pronunciata al concilio di Costanza l'8 settembre 1416 al concilio di Costanza il concilio ecumenico San Pier Damiani parla dell'assunzione di San Giuseppe nel sermone di San Giovanni Battista il venerabile Bernardino Bustos riferisce che mentre San Bernardino da Siena stava predicando nella città di Padua sull'assunzione di San Giuseppe in corpo ed anima al cielo gli ascoltatori videro sul capo del santo predicatore una croce come di oro splendente che emanava meravigliosi raggi di luce il santo stava dicendo devotamente si deve credere però non affermare come di fede che il benignissimo Gesù figlio di Dio vivo con un guai privilegio adornò suo padre traduttivo e sua madre santissima e che così come quando morì la Vergine Purissima se la portò in cielo con corpo ed anima allo stesso modo il giorno della risurrezione attenzione Gesù si portò con sé il giustissimo patriarca San Giuseppe nella gloria della risurrezione affinché come quella santa famiglia cioè Cristo Maria e Giuseppe visse unita sulla terra e una vita laborosa in grazia così nella gloria dell'amore viva in cielo in anima e corpo state che trovo il riferimento questo è il sermone secondo San Giuseppe articolo 3 la fonte attenzione a quello che dice qui San Bernardino da Siena devotamente si deve credere però non come affermare come di fede qui attenzione vedete questa espressione allora noi dobbiamo sempre distinguere tra la fede divina e cattolica su cui non c'è argomento di discussione e quelle si devono non credere senza nessun dubbio ritenere in maniera assoluta al di sotto di questo orizzonte ci sono una serie di pie credenze chiamiamole così che evidentemente non fanno parte del deposito un fidei a meno che non ci sia un papa un giorno che dica come stato detto per la madonna ai tempi di evidentemente di San Bernardino non era stato formulato neanche il dogma dell'assunzione quindi neanche il dogma dell'assunzione poteva essere affermato come di fede adesso no quindi se San Bernardino fosse vissuto oggi doveva dire si può credere non affermare come di fede dell'assunzione di San Giuseppe perché dell'assunzione della madonna non è più così adesso la si deve ritenere di fede non come pia credenza l'assunzione di San Giuseppe al momento è ancora una pia credenza è una pia credenza che però ha vari elementi di convenienza il primo è quello che diciamo così usa San Bernardino è l'unità della Santa Famiglia e le primizie concesse a San Giuseppe a entrambi i genitori da soltanto alla madre anche al padre putativo il grande San Leonardo d'Aporto Maurizio di cui come potete ben comprendere io sono particolarmente devoto per ovvie ragioni afferma dite che San Giuseppe quando morì fu trasportato all'Empirio in corpo ed anima per privilegio particolare citato nei proverbi tutti i suoi di casa hanno doppia veste questo è il proverbi 31-21 vale a dire quelli della famiglia della donna forte ossia della Vergine Maria indossano doppia stola che per gli interpreti della Sacra Scrittura si intende la glorificazione dell'anima e del corpo la fonte di questo si trova nell'opera di Francesco Butinà a pagina 285 il grande teologo spagnolo franzisco suarez eccolo quindi e qui stiamo nelle misterios della vita di cristo volume 1 disputa 8 a seconda scrive così non tralascerò di dire che secondo un'opinione abbastanza diffusa il nostro santo regna con Cristo nella gloria in corpo ed anima perché siccome morì prima di nostro Signore attenzione è verosimile che fosse tra quelli che risuscitarono al momento della morte o della risurrezione del Salvatore i quali risuscitarono a vita immortale di anima e di corpo o a che cosa fa riferimento adesso qui dobbiamo fare una parentesi perché queste posizioni non stanno campate in aria così dice vabbè San Giuseppe è il padre evutativo di Gesù quindi è stato assunto in cielo perché andava bene così non è così semplice allora nel Vangelo di San Matteo adesso lo trovo subito così posso posso leggervi direttamente i riferimenti si legge una cosa molto molto particolare la vado subito a prendere al momento della morte di Gesù succede un fatto del tutto particolare 27,52 allora Gesù muore Matteo 27,50 Gesù è messo un alto grido spirò ed ecco il velo del tempio 51 si scorciò in due da cima a fondo la terra si scosse le rocce si spezzarono i sepolcri si aprirono attenzione e molti corpi di santi morti risuscitarono egerthesan è in greco di santi morti e uscendo dai sepolcri attenzione dopo la sua risurrezione entrarono nella città santa e apparvero a molti questa è parola di Dio questo è il Vangelo secondo Matteo non sono iacchiere non è che questo è un particolare che se l'ha inventato San Matteo nei Vangeli non ci stanno scritte le favole quindi questo fatto è successo cioè che i sepolcri si aprirono e che molti corpi di santi morti risuscitarono chi erano punto interrogativo è legittimo chiederselo chi erano questi santi morti risuscitati San Giuseppe San Giovanni Battista i genitori della Madonna San Giochino e Anna potrebbero essere anche chi sono qualche profeta dell'Antico Testamento quindi se sono risorti dei santi ma ti pare che il più santo dei santi cioè che ne so facciamo risorgere adesso ne dico una Mosè e San Giuseppe San Giuseppe e noi Mosè sì sembrerebbe strano allora andiamo avanti Maria da Greta dice il giorno della risurrezione con ogni bellezza e gloria si alzò il nostro salvatore dal sepolcro e in presenza dei santi dei patriarchi promisi al lignaggio umano la risurrezione universale come effetto della sua nella stessa carne e corpo di ciascuno dei mortali e che in essa sarebbero stati glorificati giusti impegno di questa promessa e come in ostaggio della risurrezione della risurrezione universale dispose sua maestà che le anime di molti santi che si trovavano là si riunissero ai loro corpi e risuscitassero a vita immortale quindi che cosa succede che il giorno della risurrezione di Gesù alcuni hanno ricevuto le primizie di ciò che alla fine del mondo sarà di tutti la risurrezione della carne perché evidentemente eccettuata la madonna cioè in realtà per quanto mi riguarda di assunzione in senso stretto si può parlare in effetti solo di Maria qualora però si intenda che il corso della vita terrena di Maria vedete anche qui per esempio San Bernardino da Siena non pensava a questo dopo la morte è risurrezione e sta l'assunta in cielo la madonna non è morta in senso stretto allora capite non essere morta in senso stretto senza parlare di assunzione perché semplicemente gli angeli hanno preso quel corpo ancora vivo e se lo sono portato in paradiso riunendo poi nel termine dell'estasi l'anima di Maria Santissima nella sua pienezza perché nelle estasi sapete basta leggere Santa Teresa la parte superiore dell'anima esce da noi non tutta però se è lecito parlare e esprimersi in questi termini per quanto riguarda gli altri non si può parlare semplicemente di assunzione perché questi erano morti quindi si deve parlare di risurrezione una volta che uno è risorto come risorge il nostro Signore perché Cristo risuscitato dai morti non muore più e il verbo è lo stesso il verbo greco l'ho letto apposta in greco cioè il verbo della risurrezione non è essere semplicemente rianimati ma è Egeiro Egertesan Egertesan è proprio la risurrezione la risurrezione è Cristo risuscitato dai morti che non muore più come scrive San Paolo quindi non è semplicemente una rianimazione come è stata per esempio quella di Lazzaro che è semplicemente un richiamo dell'anima corporale o anche quella per esempio i miracoli che fecero nell'Antico Testamento si pensi al miracolo di Elia che ha fatto risorgere il figlio di una vedua basta leggere il libro dei re o anche i miracoli che ha fatto le resurrezioni l'hanno fatte anche i Santi Cattoli Sant'Antonio era famoso per questi miracoli però attenzione quelle non sono non si devono chiamare in senso stretto risurrezioni perché la risurrezione anche qui in senso stretto in senso forte non è torna l'anima nel corpo e poi muore Lazzaro è morto non è non è stato cioè adesso se è uno di questi che è risultato che poi si è portato in cielo il nostro Signore è un altro discorso ma Lazzaro è passato per la vita per la morte corporale si dice che sia morto martire dopo essere stato vescovo Lazzaro il figlio della vedova di Nain è morto la figlia del sinagogo del sinagogo Gairo è morta tutti quanti risuscitati già da parte di Gesù non le tre risurrezioni dei Vangeli ma anche qui le sto chiamando risurrezioni ma anche qui bisognerebbe chiamarle rianimazioni cioè l'anima torna nel corpo che però non cessa di essere mortale quindi poracci questi sono morti due volte invece la risurrezione questa risurrezione è quella con cui Cristo ha vinto la morte quindi Cristo risuscitato dai morti che non muore più è l'immettersi nella condizione di immortalità anche corporale è un'altra cosa è un'altra cosa allora proseguo la lettura immediatamente venne eseguito questo divino comando e risuscitarono i corpi di cui anticipando il mistero riferisce Matteo e cita il versetto che ho letto poco fa e tra di essi si trovavano vedete Sant'Anna San Giuseppe San Gioacchino quindi genitore della Madonna San Giuseppe ed altri antichi padri e patriarchi che si erano distinti nella fede e nella speranza dell'incarnazione e con maggior desiderio l'avevano anelata e chiestano al Signore ah se è così c'era sicuramente il profeta Esaia 100% che è quello che più di ogni altro canta insomma l'incarnazione e la passione di nostro Signore così a ricompensa di questi meriti venne loro anticipata la risurrezione e la gloria dei corpi questo si trova nella mistica città di Dio nella seconda parte nel libro sesto al capitolo 26 per chi conosce gli iscritti della venerabile Maria da Greta che io personalmente raccomando al 100% perché sono stupendi ancora dice San Francesco di Salla non dobbiamo in alcun modo dubitare che questo gluroso santo gode di molto credito in cielo presso colui che l'ha favorito così tanto da elevarlo fin lassù in anima e corpo San Francesco di Salla vescovo e dottore della chiesa il che spiegherebbe come mai sulla terra non ci sia rimasta alcuna reliquia io ce l'ho una reliquia di San Giuseppe personalmente ma non è del corpo è di una veste è custodito da qualche parte adesso non mi ricordo dove il manto di San Giuseppe quindi per chi è devoto del sacro manto lo trovate online adesso io non non mi ricordo dove sto va a cercare reliquia del manto di San Giuseppe e esce il posto dove sta custodito però le reliquie di San Giuseppe non ci stanno e guardate che ci sono reliquie anche di santi antichissimi di martiri dei primissimi secoli dove sta il corpo di San Giuseppe non ci sono reliquie neanche della Madonna io personalmente ho una reliquia di un frammento del velo di Maria Santissima però non ci sono le reliquie della Madonna perché la Madonna il corpo non sta più sulla terra cioè le reliquie di prima classe penso che lo sappiate sono tratte dalle ossa ma le ossa devono stare sulla terra per poter prendersi le reliquie non ci stanno le reliquie di San Giuseppe come mai perché il corpo di San Giuseppe dove è sepolto San Giuseppe ma vi sembra vi sembra insomma che i primi cristiani si siano lasciati scappare la tomba di San Giuseppe noi sappiamo dove sta San Pietro sappiamo dove è morto San Paolo sappiamo dove stanno le ossa sappiamo dove stanno gli apostoli a Roma sta la basilica dei santi apostoli cioè tutti quanti grandi personaggi è San Giuseppe cioè i cristiani la chiesa primitiva si lascia sfuggire la tomba di San Giuseppe non trasmette i posti dove sta la tomba di San Giuseppe cosa strana San Francesco di Sala vedete io cerco di usare un linguaggio insomma sarà perché i tempi sono cambiati un po' possibilista ma l'ho già detto non dobbiamo in alcun modo dubitare che si è assunto in cielo poi rincara a me pare che nessuno possa dubitare di questo perché come avrebbe potuto negare a San Giuseppe questa grazia colui che gli fu obbediente per tutta la vita cioè i termini a me pare che nessuno possa dubitare e se è vero che cosa che dobbiamo credere che in virtù del Santissimo Sacramento che riceviamo i nostri corpi risusciteranno nel giorno del giudizio ma come possiamo dubitare ancora questa espressione che Gesù abbia fatto salire in cielo in corpo ed anima il glorioso San Giuseppe che aveva avuto l'onore e aveva ricevuto la grazia di portarlo con tanta frequenza sulle sue braccia tra le quali il nostro Signore tanto si compiaceva è dunque innegabile addirittura innegabile pensate se parlassi così oggi gli direbbero ma tu chi ti crei di essere che ti sostituisci al Papa è dunque innegabile che San Giuseppe sia in cielo in anima e corpo quanto saremmo felici se potessi meritare le sue tante intercessioni poiché a lui nulla viene legato né da parte di Nostra Signora né dal suo glorioso sposo anche Giovanni XXIII Papa Giovanni XXIII sapete che è il Papa che ha inserito San Giuseppe nel canone romano nell'omelia pronunciata nella festa dell'ascensione il 26 maggio 1960 espresse la sua opinione personale che San Giuseppe si trova in cielo in corpo ed anima e la espose come opinione accettabile disse letteralmente così piamente noi possiamo credere vedete come si esprime un pontefice le pie credenze le ho chiamate prima pie credenze quindi possiamo credere non siamo obbligati al momento ecco l'autore conclude dicendo naturalmente l'assunzione di San Giuseppe non è dogma di fede ma speriamo che lo diventi in un futuro non molto lontano io anche lo auspico io non ho nessunissimo dubbio su questo personalmente nessuno a livello ovviamente di via credenza spero che insieme al dogma della corredentrice a di cui sono sicuro che si farà nascerà sicuramente un Papa che farà questa cosa io ho già detto in altre circostanze che l'Immacolata 1854 l'assunzione 1950 a un secolo di distanza ci manca il terzo no? se si rispettano i tempi 1854 1950 è un po' presto ancora noi siamo nel 2022 ma chi lo sa che io non prima che prima di morire se il nostro Signore mi considererà una vita lunga potrei arrivarci al 2050 in teoria insomma ho 50 anni adesso quindi siamo nel 2022 potrei pure arrivarci sarebbe una gioia immensa vederlo dalla 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 terra no? come direbbe il grande filosofo cattolico Jean Gitton ho l'impressione che non sia ancora arrivato il tempo di San Giuseppe non è ancora uscito dall'ombra e comincia l'oltanto ora vedrete come il futuro ci riserverà molte belle sorprese su di lui quando Angelo anche il Pegni ha scritto questo libro non poteva neanche lontanemente immaginare che San Giuseppe si sarebbe manifestato a Itapiranga e avrebbe detto tutte quante quelle cose belle sul suo conto tra cui confermare la via credenza che è stata assunta in cielo quindi capiamo il fondamento biblico i passi quei passi oscuri ma veri quindi oscuri nel senso che non possiamo sapere chi erano quelli che sono risuscitati ma che alcuni sono risuscitati non possiamo dubitarlo non c'era San Giuseppe forse ma che ci fosse stato qualcuno sta scritto nel Vangelo quindi non è possibile dubitarlo e Matteo insomma era uno che ci andava molto per per il sottile insomma con la precisione e la dovizia anche dei particolari ecco quindi questo fa comprendere la grandezza e la potenza che San Giuseppe ha io personalmente sono molto incline a credere che tra quei defunti ci fossero San Giuseppe e i genitori della Madonna perché se mi posso permettere anche chi sta in contatto così stretto con con la Madonna e i genitori e lo sposo certamente qualche cosa di grosso lo va a ricevere e questo vale anche per noi ecco nel senso che chi è molto devoto alla Madonna chi le sta molto vicina si può aspettare sicuramente perché il Signore ricompensa grandemente i Suoi devoti noi non dobbiamo aspettarci nulla se volete un consiglio riteniamoci sempre degni soltanto che di castigli e di punizioni a causa dei nostri peccati se posso permettermi un pivo consiglio io non dico non si può dubitarci però di fatto le persone molto vicine alla Madonna spesso e volentieri hanno ricevuto grandi favori e quindi se sa mai insomma se il Signore non sono ancora giunti i tempi di San Giuseppe anche se con queste apparizioni che adesso sono sottoposte saranno sottoposte al valio della Chiesa qualcosa è successo insomma quindi credete grosse San Giuseppe non è ancora giunto il tempo della corredentrice però si delineano all'orizzonte per ora si può evidentemente più che piamente credere che la Madonna è corredentrice e nessuno può dire nulla d'accordo su questa per il momento è una pia credenza è una pia credenza per il momento anche l'assunzione di San Giuseppe o speriamo che tra una cinquantana d'anni abbiamo accantonato le pia credenze e siano tutti e due bei patrimoni della santa fede divina e cattolica bene amici detto questo ci salutiamo dandoci appuntamento alla prossima buon primo mercoledì terminato del mese a tutti e soprattutto perché ha ascoltato la diretta siamo ormai prossimi alla Pasqua una santa Pasqua a tutti